Marco Ruffini, Torino vince la serie con Biella e vola in semifinale con Trento. Abbiamo una promessa da riscuotere con Daniele Sandri che ci aveva promesso un'intervista veloce. Noi siamo contenti perché Sandri ha fatto la quarta partita una meglio dell'altra. Sì, ma l'importante è sempre crescere. Oggi è stata una partita difficile, lo sapevamo che sarebbe stata difficilissima perché loro sono una squadra che non molla mai. Però alla fine siamo andati sotto, siamo ritornati, siamo riandati sotto e alla fine quando contava gli abbiamo dato la botta decisiva, la botta aggressiva che bisogna dargli sempre, che dobbiamo mantenere ogni volta perché è quella che fa la differenza nella pala canestra. Nell'ultimo quarto sembra che tutte le cose che non sono andate parzialmente nei primi tratti sono tutto a posto. Bowers mette un canestro pazzesco, Mancinelli, Amoroso, Daniele, tutti voi, sembrava un'altra squadra. Eh no, ma alla fine se stai lì prima o poi arriva il tuo momento e se arriva il nostro momento col talento che abbiamo possiamo veramente fare la differenza. Il nostro prossimo avversario è Trento, finalista di Coppa Italia, ha vinto la regular season, ha fatto un playoff abbastanza lineare, è veramente un osso molto duro? È così, è così. Per l'anno che abbiamo fatto noi meritiamo di beccarci tutte le squadre più forti per sudarcele, per avere un po' di pepe sapete voi dove. Quindi ci sta, ci sta. Dobbiamo andare lì sapendo che noi siamo forti, che l'abbiamo dimostrato qui contro Biella e poi ce la giocheremo. Alla fine quando si alza la palla a due, là inizia tutto. La più forte che ci poteva capitare ce la siamo meritata, adesso godiamoci. Siamo meritata, adesso ce la godiamo tutta. Ciao Daniele, grazie, complimenti. Grazie. Ciao.